cari ragazzi benvenuti su baionetta la strega più gnocca e riverente dei videogames è tornata in forma smagliante dal momento che platinum ha deciso di rilasciare la versione pc su steam al prezzo di 20 euro è già disponibile da ieri se non vado errato e fino al 25 mi sembra che avete pure la possibilità di ottenere i bonus della special edition o qualcosa di questo genere non ho neanche guardato ad ogni modo comunque è una piacevolissima sorpresa e questo è un port che speravo vivamente di vedere realizzato perché veramente baionetta è uno dei migliori giochi di sempre non prendiamoci in giro baionetta è uno spetta collection di qualità estremamente elevato è uno dei migliori di sempre un combat system fantastico il migliore secondo me che ha sviluppato fino adesso platinum games se in futuro decideranno anche di portare il secondo capitolo non sarebbe male soprattutto perché dal momento che è uscito solo esclusivamente su wii u così una fetta di pubblico un po' più ampia può permettersi di giocare anche a quel capitolo lì che eleva tutto ciò che di buono aveva questo baionetta qui veramente il 2 è una figata io fortunatamente la wii u la possiedo ho avuto modo di giocarlo e stra giocarlo un bordello di volte perché questi giochi sono così una volta che cominci non finisci più però vediamo di concentrarci su questo qua che a suo tempo quando uscì non è che fosse proprio perfetto come titolo principalmente il comparto tecnico soprattutto la versione playstation 3 che io possedevo aveva dei grossi problemi col frame rate pulizia grafica faceva abbastanza cacare tutte queste cose sono state sistemate in questo port ed è un port davvero ben fatto veramente ben fatto d'altronde è un gioco del 2009 c'è 8 anni sto titolo qua ci mancherebbe altro però sai come vedendo i risultati dell'ultimo mira automata ci si si può essere un po' dubbiosi no fortunatamente non è così hanno fatto veramente un ottimo lavoro ed è un titolo che gira benissimo anche su pc piuttosto vecchi quindi tip top e sono qua proprio per dirvi a voi che mi seguite se non avete mai giocato a baionetta se non avete mai messo le mani su sto titolo innanzitutto che cazzo avete nella testa come ve lo siete fatti scappare sto gioco qua che è uno dei migliori no scherzi a parte è veramente il momento ideale per acquistarlo 20 euro per sto gioco qua sono pochi nonostante siano passati 8 anni perché qualitativamente rispetto alle versioni originali è decisamente migliorato e poi è uno di quei giochi che porta via un sacco di tempo a tantissimi contenuti da offrire chi ama la serie devil may cry e simili sa benissimo com'è con questi giochi qua la prima run è un tutorial e poi tutto il resto è perfezionamento imparare le nuove aree insomma tanta tanta carne al fuoco dunque passiamo alla qualità del port come ho detto è davvero davvero pregevole cominciamo magari con le impostazioni dal momento che questo gioco qua come nira automata supporta sia mouse che tastiera solo che giocarlo con la tastiera non è proprio consigliabile telecamera telecamera di baionetta sempre stata un po rigida quindi meglio aumentare un po la sensibilità ma diciamo che la cosa più interessante sotto grafica sotto le impostazioni grafiche hanno inserito una feature davvero carina soprattutto per chi possiede diciamo una macchina piuttosto vecchia un pc non molto potente infatti abbiamo quell'utilizzo lì della virami infatti in tempo reale vi fa vedere in base alle impostazioni che avete equipaggiato quanta virami porta via quindi vi potete regolare più facilmente di conseguenza e poi per il resto più o meno standard alla fin fine una buona quantità di opzioni calcolando che comunque è una remaster di un gioco di 8 anni fa dunque come ho detto il gioco gira veramente bene mantiene sempre i 60 frame fissi non droppa praticamente mai ogni tanto qualcosina nelle cutscene ma veramente questione di 2-3 frame proprio cose che vedo perché c'ho l'indicatore ma occhio nudo non le noteresti nemmeno e poi per quanto riguarda la qualità delle texture e tutto il resto c'è sicuramente una miglior nitidezza c'è sempre quell'utilizzo massiccio di motion blur ma questo non è dovuto al port ma è proprio il gioco in sé già il gioco originale sfruttava molto quell'effetto lì peccato che non si possa rimuovere però è sicuramente tutta un'altra cosa questi giochi necessitano i 60 frame al secondo senza i 60 frame al secondo il combattimento perde tantissimo infatti qua è fluido risponde bene è esattamente come doveva essere 8 anni fa finalmente ci siamo arrivati ci è voluto giusto un pochino però finalmente ci siamo veramente uno dei migliori combat system in circolazione questo qua e rigiocando bayonetta mi son reso conto ancora più quanto amo questo combat system quanto adoro sto gioco è una figata veramente perché alla base è molto semplice alla fin fine sono due tasti per attaccare uno per attaccare uno per scrivere uno per sparare semplicissimo però le opzioni che ti offre sono tantissime cioè devil may crime pallidisce al confronto per dire veramente con bayonetta al suo tempo si sono proprio si sono proprio sbizzarriti all'inverosimile perché tu con la stessa combo puoi fondamentalmente fare cioè con la stessa combinazione di tasti puoi fare tre combo diverse dagli esiti completamente differenti inoltre c'è la solita feature del bullet time durante la schivata abbiamo gli attacchi torturanti che sono queste finisher estremamente forti che si sbloccano caricando la barra magica colpendo i nemici e poi ovviamente possiamo usare le armi droppate le nemici alcune di esse estremamente forti e estremamente divertenti veramente utilizzando le aste le lance degli angeli puoi fare tipo la pole dance insomma c'è di cotte di crude estremamente sopra le righe come titolo questo ovviamente lo dico per chi non ha mai giocato a bayonetta come ho detto che cazzo fate correte a comprarlo chi ha già giocato a bayonetta sa benissimo com'è è veramente una cosa incredibile questa qua è proprio l'eccentricità dei developer giapponesi quando ci danno dentro proprio quando danno sfogo alla loro creatività saltano fuori di quelle cose incredibilmente incredibilmente assurde e poi c'è un'altra meccanica molto importante che non si nota molto nei combattimenti a meno che non sapete come funzionano che è il combos interruptus che ha i livelli più avanzati è sicuramente la meccanica più importante dal momento che vi permette di schivare senza interrompere le combo questo semplicemente mantenendo quando mantenete premuto il tasto della combo schivate e poi potete riprenderle è una meccanica che inizialmente crea un po' di casino però quando ci prendete sulla mano potete fare di quelle combinate cioè potete andare avanti a combo una combo dietro l'altra senza mai farvi interrompere adesso questo qua è sono proprio le prime le prime fasi di gioco qua siamo a Vigrid la città qui si comincia l'avventura la città in Europa che porterà Bayonetta a scoprire le origini del suo passato e qui c'era la famosa scena del tram infatti questa me la ricordavo che c'era il trofeo si schivava il tram e poi dovrebbe esserci anche un portale alfheim da queste parti i famosi portali alfheim sono delle stanze di sfida letteralmente esattamente come quelle in Devil May Cry che solitamente richiedono l'uccisione di un determinato quantitativo di nemici o di alcuni nemici in particolare boss inclusi in un determinato quantitativo di tempo sfruttando solo un certo quantitativo d'attacchio solo con un determinato tipo di armi eccetera eccetera insomma e sono un bel po' perché questi qua poi sono nascosti veramente bene in quanto solitamente si sbloccano dopo determinati eventi e richiedono un minimo di backtracking solitamente in Bayonetta quando c'è un evento con cutscene una boss fight o qualcosa di questo genere dopo di quello solitamente ti conviene tornare indietro perché sei quasi sicuro che ne hai sbloccato uno se non di più adesso in questo caso abbiamo quella dei calci e pugni limitati che queste qua sono abbastanza semplice all'inizio però più avanti mi ricordo che ce n'erano alcune che erano abbastanza toste perché ti mettono dei nemici bastardelli se non usi certe combo in particolare fai abbastanza fatica è male e qui devi sfruttare proprio la il fatto che Bayonetta continua a sparare se tu tieni premuto il tasto d'attacco dal momento che sta qua al posto dei tacchi c'ha delle pistole eh sì welcome to Bayonetta estremamente sopra le righe è una figata comunque veramente davvero contento ci voleva proprio per per chiudere in bellezza il periodo dei gioconi nel momento che sì siamo quasi a metà di aprile però c'ho ancora i postumi dei giochi del mese di marzo ecco questo qua proprio chiude in bellezza questo qua è veramente uno dei miei giochi preferiti pertanto ragazzi veramente ve lo consiglio vivamente il port è eccellente gira benissimo anche su dei pc di merda per modo di dire quindi veramente non c'è quella problematica lì è 20 euro per un gioco così guarda li vale tutti come ho detto questo qua è uno dei migliori giochi action di sempre un combat system favoloso in 8 anni nessuno ci è arrivato ma neanche lontanamente vicino è talmente ben fatto quindi consigliatissimo davvero consigliatissimo quindi direi che per questo video è tutto ragazzi io vi ringrazio per l'attenzione statemi bene e ci sentiamo molto presto ciao ciao